Le bellezze naturali della nostra terra sono sempre più apprezzate da registi e attori. Lo ha detto il presidente della regione Vito de Filippo a Venezia, dove è in corso la 69esima edizione del Festival del Cinema. Il binomio cinema e turismo è sempre più un'opportunità, non solo per promuovere il nostro territorio, ma anche per creare un circuito economico virtuoso, dando lavoro a tante figure professionali che con le loro conoscenze contribuiranno a confezionare prodotti di qualità. Il presidente ha colto l'occasione inoltre per parlare di Film Commission, che consentirà di far conoscere attraverso i prodotti cinematografici e multimediali il patrimonio artistico e ambientale della Basilicata. Il presidente ha sottolineato come la Film Commission sia propedeutica anche alla candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura 2019. Di questo ha parlato anche l'assessore alla cultura Vincenzo Viti, che ha assicurato la disponibilità a organizzare a Matera un simposio degli scrittori e dei giornalisti italiani e stranieri che conoscono la città per consolidare la sua candidatura a Capitale della Cultura 2019.